Buongiorno a tutti, qui Ardino Schianato da Iaforex e in questo caso voglio farvi una pillola di una dinamica che ho segnalato anche agli utenti abbonati al Platinum nelle ultime settimane e che si è venuta a creare e che può essere interessante a livello didattico per capire spesso il mercato come si muove in determinati punti per poi creare dei veri e propri breakout di volatilità. Allora, questo qui è il grafico di dollaro australiano su dollaro americano, questo è un grafico daily perché ovviamente tutta la nostra struttura deve essere studiata tra un weekly e un daily come sapete e la cosa che ovviamente andiamo a vedere è che il mercato è in discesa, quindi io ero, il workout poi è venuto qui, Io ero in questa, eravamo in questa zona con la dinamica short, quindi trend di medio termine short, trend di breve termine short, quindi un mercato che stava scendendo, che ha fatto un primo tocco diciamo dei minimi precedenti qui, c'è stato un rimbalzo e poi il mercato inizia a congestionare, vedete vicino ai minimi. Allora, proprio qui il quattro ore ci è venuto dare una mano ed eccolo qui, cosa avevo anche mostrato ai ragazzi della trading room platinum, gli abbonati, cioè i ragazzi della trading room platinum, ecco qua, vedete c'era stato il primo tocco che era quello, il primo punto di minimo dove il mercato poi ha ritracciato, poi si è congestionato, ha fatto diciamo un secondo quasi di test senza mai violare al ribasso del punto uno, quindi del minimo precedente, e poi senza mai spingersi troppo in alto, quindi rimanendo debole, crea un ulteriore movimento ribassista che va nuovamente a testare senza mai violare al ribasso e recuperare forte il livello. Addirittura proprio quando si è formata questa io ho segnalato il tutto appunto ai platinati, perché? Perché in questo caso questa che per molti potrebbe risultare una pinbar rialzista o comunque un segnale rialzista, per il tipo di struttura che si è venuto a creare, il tipo di dinamica quindi di congestione, soprattutto di compressione sui minimi che si è venuto a creare, era un classico falso rialzo, falso trigger di rialzo, ma che poteva essere utilizzato come un punto di short, tant'è che io parlai di 68 e 70, vedete che qua si è creato un pavimento, che alla rottura del pavimento ci poteva essere un movimento invece, facile di rapido movimento short, tant'è che da 68 e 70 è andato a fare 100 pips al ribasso, 67 e 60, 67 e 70 proprio nel giro di tre candele a quattro ore, quindi ha fatto il tutto in 12 ore con un movimento assolutamente enorme. Ecco che quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a una dinamica di questo tipo, può essere interessante valutare nell'ottica di breve, o se siamo già short, dei rafforzativi short, quindi degli incrementi che ovviamente vanno visti nel breve, perché poi questi sono dei breakout che spesso durano, non durano tantissimo, a meno che appunto come in questo caso siamo veramente di fronte a un movimento short più strutturato, com'è, tant'è che guardate adesso il livello questo qui che è il livello importante, è diventato un livello chiaramente di interesse. Prima era un interesse long, adesso è diventato interesse short e addirittura potrebbe far continuare fino in area 66 e 90. Ma quello che io volevo farvi vedere qui era proprio questo, cioè nel momento in cui noi eravamo qui, in questo caso eravamo proprio qui, questo va più visto come una dinamica di congestione short e non per andare long. Nel momento in cui, guardate poi cosa fa, ci fa addirittura un possibile spunto ribassista, qualora vada a rompere al ribasso, con uno stop magari posto qui o comunque poi nell'apporazione che si ha, si cerca un breakout, un facile movimento ribassista verso il basso, cosa che in effetti poi, guardando come si è mosso il mercato, alla rottura vedete, boom, c'è stato addirittura un 100 pips e oltre in realtà di ribasso, quindi molto interessante questa dinamica. Questo per dirvi che quando si formano dei possibili spunti che possono prevedere anche un rialzo, nel senso che qui ha fatto un classico triplo minimo, diciamo, no, tecnico, ma dobbiamo valutare e ragionare. In questo caso per il tipo di struttura, la compressione sui minimi e il tipo di congestione che c'era stata qui, senza la falsa rottura, tra l'altro, è un classico mini cluster che porta poi a, di compressione, che porta poi a movimenti di ribasso. Per finire, altra cosa, questo minimo che si è venuto a creare qui diventa il minimo che è un po' un pivot, un punto di pivot, diciamo, un punto importante che violandolo creerebbe la velocità di movimento non solo perché entrano posizionamenti short, ma anche perché probabilmente vengono richiusi posizionamenti long per stop loss presi o per proprio chiusure di posizione manuali relative a dei long fatti su questa, diciamo, idea di tenuta dei minimi. Sono tutte cose che nella price action vanno viste, vanno guardate e possono essere d'aiuto nell'ottica di trading, sia di breve che di brevissimo, come in questo caso termine, quindi in questo caso proprio di brevissimo. Però a volte già anche sul daily si possono formare queste dinamiche che possono portare invece che a tre candele ribassiste a quattro ore, a tre giornate ribassiste a, che portano a invece di magari cento pips di movimento, anche duecento, trecento pips di movimento. Bene, questo è tutto per il momento, noi ci vediamo nel prossimo video e vi mando un saluto, a presto, ciao!